La prima delle quattro statue ha terminato il suo volo, è giunta in piazza Castello dove sarà ricoverata all'interno del suo padiglione assieme alle sue gemelle e dove verranno restaurate nei prossimi cinque mesi. Un trasferimento complesso eseguito con una tecnica utilizzata nelle cave di marmo per impedire che la statua subisca delle vibrazioni o dei dissesti. Qua sarà smontata dalla sua intelaiatura, verrà sistemata su un podio particolare e si provvederà intanzitutto a fare tutta una serie di analisi specifiche per comprendere la tecnica costruttiva e il male di cui purtroppo soffre il marmo con cui sono state realizzate.